I collegati erano un po' negativi su quello che vi siete detti? Noi siamo un po' positivi perché è stato un incontro di confronto, di dimostrazione concreta che il governo continua a dialogare mentre il provvedimento fa il suo corso. Ci saranno poi anche altre occasioni nelle audizioni che sono già state accennate al Senato e a cui io stessa parteciperò.